Saluto carai, oggi io mi volas racconti al vi episodio che ho avuto a me. E' un remarco per una mia pubblicaio in Laretto, post-nau-iaroi, non io, in fact, donis iun hain attento al tiu pubblicaio, dum-nau-iaroi. E, sì, non ho più, diciamo, investo il tempo, perché post-nau-iaroi, mi sono un'altra persona, e non ho più, diciamo, strutturato, fac un articolo, dove non sono un'altra cosa. E' un vero sorpreso a me, perché io vieno a me tutto sempre, non so come ho proprio pubblicato l'afero in Laretto, e ora mi sembra che il tempo di Laretto è un'altra cosa che il tempo del mondo, almeno da alcune persone. e questo necessario mi sorpresi in effettiva. Ciò vi anche ho, spero insieme, racconto, ciò occasioni. Non ho forgesse, resti con noi, e conmediti con noi. Grazie. Saluto e buon venito a mia nuova Samenhoff-Amedito. O Dio, mi volas legi e mediti con vi, sur calcai vortoi, ciò in Samenhoff scribis in lettero. Sia tempe tra fama, temas per lettero, per la delegazio, e la adresito è Dr. Louis Couturin, la fama autore di Ido. Da la lettero è pubblicata un'altra foto in l'anno 1907, e ciò è molto grave per comprare la fondazione dell'Eltiro, che mi sono legato a voi. Pagio 44.2 Electo, estus trebona, antau dec, dec quini aroi. Ciam existis ancora o multai personoi, chi vuolis havi lingvon internazian, sed nes zis, chiun ili devis preni. Sed nun, iam de longe, la tuta mondo al cutimigis alla ideo che existas nur uno preta, cai el provita arta lingvo. Pri iai alliei proiectoi, gi aututen est sias, a ost sias pri ili nur, cili estas malfortai teoriei proiectoi, te diversai malcontentuloi, chi volas, sed ne povas, concuradi cun esperanto. La tempo fluo Ciam grade ni povas diverse consideri la tempo fluon. Em 1907, lausamenhof, dec, dec quini iaroi, estis longega tempo, dum ciam, la tuta panorama della pubblica opinio pri esperanto cai la besono de neutrale homa lingvo internazia, shangigis, gis profunde, cai, por la resto della mondo, nenio ocasis. La resto, mi diras, exter esperantoio. Ec, lau celca intelectuloi, la discuto cai disputo pri la plei tauga formo estis tutte malfermita. Cai factegi restis malfermita, gis interlingua de Iala en 1951 effective. Estas necredeble. Constati che ni vivas la saman tempon, sed ni a percepto della tempo povas tiel vari che shainas che ni vivas en malsamai epocoi calc foie. Cai tion mi volas rilatigi alla percepto della signifo de Iaro du mil dude, char, lau mia compreno, multae homoi dauras vivi sam kiel covimo tute ne existus. Sam kiel du mil dec du ne estis facte turno punto en la historio della homaro. Do, tempo fluo. Ien, la temo, priciu mi instigas nin conmediti. Dankon, provia attento. Gis morgo, cai kiel ciam, antauen, sen fine. grazie a tutti. Gis morgo,